Sono andato molte molte volte al carcere di San Vittore, ci andavo in particolare sempre a Natale, è stata sempre una grande emozione perché è una molteplicità di presenze di storie dolorose e anche di cammini di redenzione, quindi c'è veramente il meglio e il peggio per così dire dell'umanità e per questo mi sentivo molto vescovo entrando in San Vittore.